Abbiamo fatto un gran lavoro di squadra, a partire dall'inizio è andata fuori una fuga che non ci interessava, il primo era Brambilla in classifica con un'ora peso di ritardo, quindi per noi non c'è nessun problema. Abbiamo controllato bene, gestito molto bene, in finale stavo bene, ho gestito bene la salita, avevo paura di qualche attacco della Movistar o della Stana, però ho imposto fin da subito un ritmo abbastanza alto, mi sono gestito anch'io e nessuno ha provato ad attaccare. Meglio così, poi a decidere siamo andati tranquilli per non rischiare e un altro giorno è passato indenne. Ce ne sono altri due giorni, speriamo che tutto vada al meglio. Oggi abbiamo visto la squadra forte con Steven, come pensi che sarà domani? Domani sarà, penso, una fotocopia di oggi, una gran battaglia per la fuga, andrà fuori una fuga e noi controlleremo dietro. Certo non è una salita come questa di oggi di solo 5 km, dovrò, penso, sicuramente lavorare molto prima, già sulla prima salita e poi sulla seconda i suporti stimi. E daremo, speriamo, speriamo che un'altra buona giornata per la nostra squadra.